Ho la fortuna e comunque l'onore di moderare un dibattito che ha come argomento la mafia. E' giusto per partire, per sdramatizzare un attimo, riporto sempre, cito sempre molto volentieri la battuta fatta da uno scrittore di Salso Maggiore che si chiama Andrea Villani che dice che un paese come l'Italia nel quale Saviano è stato condannato a morte mentre Moccia è a piede libero è un paese che è abbastanza alla frutta. Adesso al di là della battuta. Però mi è capitato anche di moderare un incontro con due scrittori alla festa del PD lo scorso settembre con due scrittori che avevano realizzato, siciliani, di sinistra, fortemente di sinistra, che avevano realizzato un libro sulla vita di Piola Torre. Ecco, quindi si era un po' nel momento in cui l'aeroporto di Comisu che era cointitolato a Magliocco e che era un militare morto nel 36 se non ricordo male e appunto a Piola Torre con il cambio di amministrazione è stata tolta questa cointestazione per lasciare solo l'intestazione a Magliocco. E addirittura gli amministratori dicevano che non è un gesto contro la memoria di Piola Torre, però è un gesto che come avevamo promesso in campagna elettorale se avessimo vinto l'aeroporto di Comisu si sarebbe tornato a chiamare solo aeroporto Magliocco. Ecco, questi due scrittori che erano inviperiti per questa cosa però attaccavano poi anche il loro stesso partito, il PD, perché dice si è mosso con dieci giorni di ritardo e solo a seguito di una sequenza impressionante di email, di lettere, di fax, di protesta arrivati nella sede locale del PD. E questo scrittore, Camarca, faceva anche questa provocazione. Diceva io non mi ritrovo, io siciliano che ho scritto questo libro su Piola Torre che ha dato la vita, che è un martire, che ha combattuto, eccetera, io non mi ritrovo in questo partito che trova tra i suoi padri fondatori De Gregori e non Piola Torre. Ecco, lei ha l'impressione, partiamo subito con una provocazione, lei ha l'impressione che anche, non entro nel merito del centro-destra che sappiamo quali sono le loro posizioni, ma lei ha l'impressione che si faccia abbastanza per combattere anche con l'esempio, con questi segnali che vengono dati all'interno del suo partito, si faccia abbastanza per combattere la mafia? È risaputo che io sono molto critico su questo aspetto all'interno del PD, però volevo prima appunto dare un'informazione ancora più precisa su questa vicenda di Comiso. Il generale è un generale fascista, Magliocco, un generale che si era distinto per aver partecipato a delle stragi nella campagna d'Africa, un generale che appunto aveva dato il nome a questo aeroporto che lì, piccolo aeroporto che lì presisteva a Comiso, che poi voi sapete fu scelto da parte allora durante la guerra fredda prima dell'89 per realizzare una base missilistica da cui fa partire i famosi Pershing e Krauss per poter eventualmente attaccare i paesi dell'Est e fu scelta come base missilistica col disappunto della società siciliana, la più avvertita, la più innovativa. Lo ricordo perché per me fu una palestra di attenzione nei confronti della politica, militavo nel mondo cattolico progressista e militavo nel mondo del volontariato e conobbi Pio Latorre grazie alla sua stupenda battaglia proprio per liberare la Sicilia da questa presenza. L'amministrazione comunale di Comiso del centrosinistra di un sindaco molto bravo, capace, oggi militante del PD realizzò un impegno, un sogno che Pio Latorre aveva, che era quello di riconvertire quella base missilistica che era diventata una base americana, pensato un po' una città di 30.000 abitanti, fornita di tutto, una meraviglia pronta per essere utilizzata con cinema, teatro, ospedale connesso, scuole. Il sogno di Pio Latorre era quella di riconvertirla e infatti è diventato un aeroporto civile in costruzione per farlo diventare un aeroporto in grado anche di spostare e poter dare un grande contributo a un settore che è quello dell'agricoltura, che in quella provincia è tra i migliori più avanzati d'Italia ed Europa. E quindi finalmente una riconversione è per me un punto importante in grado di conucare legalità e sviluppo. E' successo che le elezioni adesso di recente le ha vinte un sindaco di alleanza nazionale e non ha appunto, lì non c'era la cotitolazione, alla fine era titolata Pio Latorre, ha cancellato questa nuova titolazione di Pio Latorre ed è stata invece rinserita la vecchia titolazione del vecchio generale fascista Magliocco. Un fatto gravissimo che dovete per spiegarvi l'azione devastante è come se in Italia appunto si volesse cancellare una memoria importante nella magistratura come Falcone e Borsellino. Pio Latorre è stato un caposaldo strutturale della lotta alla mafia. Pio Latorre è stato quello che ha pensato, costruito il tema del 416 bis, cioè per la prima volta in Italia dopo 200 anni di presenza mafiosa nel nostro paese, per la prima volta nella legislazione viene individuato il reato di associazione mafiosa, il 416 bis. Pio Latorre fu quello che si battè sempre con la sua legge di poter finalmente individuare la forza, l'energia delle mafie che è l'accumulazione patrimoniale e quindi la possibilità di sequestrare e confiscare beni. Una innovazione di portata straordinaria, positiva. Pio Latorre è una figura, oggi lo possiamo considerare un punto di riferimento della patria nel senso democratico, colto e impegnato. Pio Latorre viene cancellato lì dove aveva dato il meglio di sé, dove lui aveva buttato le basi per una moderna antimafia. La moderna antimafia è quella che sa coniugare legalità e sviluppo, che considero il mio punto di forza, l'elemento identitario su cui sto tentando appunto di costruire un'altra politica. In Sicilia devo dire nell'intero paese, poi dirò qualcosa magari rispondendo a qualche domanda che vi possa anche qui riguardare nel vostro territorio. E quindi questa è stata un po' la portata di quello schiaffo. A quella vicenda si è data una risposta, a quella vicenda si è data una risposta nazionale qualificata, tardiva sul piano regionale e quindi condivido il giudizio. Sul piano nazionale c'è stata una buona risposta, devo dire che Walter Veltroni ha risposto bene, c'è stata una manifestazione che da tanti anni non si era realizzata proprio lì a Comiso ed è venuto il segretario del Partito Democratico e questo è stato un fatto molto importante, innovativo, serio. e c'è stata una partecipazione molto forte. Questo naturalmente non deve, questa presenza qualificata e forte, non deve mettere da parte un punto vero che noi abbiamo in Sicilia. L'innovazione che deve diventare il tratto identitario del Partito Democratico e io ci aggiungerei in questo tratto identitario il rapporto legalità e sviluppo, in Sicilia si smorsa, in Sicilia si perde, diventa un elemento contraddittorio e c'è una sfida, c'è un travaglio, c'è un conflitto all'interno del Partito Democratico e nei prossimi mesi questo conflitto si espliciterà in Sicilia, deve diventare un percorso anche di riorganizzazione della classe dirigente che noi abbiamo in quella regione. Quindi giudizio critico di tanti intellettuali, di tanti anche esponenti della società civile è un giudizio fondato. Il Partito Democratico in Sicilia non va bene, il Partito Democratico in Sicilia si deve rinnovare profondamente, il Partito Democratico in Sicilia deve imparare da figure come ne indico tre in politica, tre figure con caratteristiche diverse tra loro ma tutte e tre in grado di darci una solida identità che sono Piola Torre appunto, Piersanti Mattarella e Peppino Impastato, tre figure diverse con storie diverse ma entrambe, tutte e tre anzi, in grado di poter arricchire una buona dose di memoria e allenarci, abituarci ad avere uno sguardo sulla Sicilia attraverso questo binomio, legalità e sviluppo, che a mio avviso il tratto moderno di una moderna antimafia. Noi dopo le stragi, seguitemi un po' in questo ragionamento, dopo le stragi imparammo molto sul tema della legalità e poi magari se volete possiamo approfondire questo argomento, il peso della legalità nel nostro paese e in Sicilia. Imparammo molto ma facemmo un errore, trascurammo la dimensione dello sviluppo. Devo dire che fu una reazione a quanti per tanti decenni teorizzavano che lo sviluppo fosse la prima condizione, anche a prescindere dalla legalità e quindi questo approccio negli anni 60, 70, 80 fu un approccio devastante che fece chiudere gli occhi a tanti anche progressisti, a tante anche a parte della sinistra sulle infiltrazioni mafiose nel sistema delle imprese, che Piollatorre dovette denunciare con in testa i famosi allora cavalieri del lavoro di Catania che erano grandi, Graci, Rendo, Costanzo, che erano grandi imprenditori che erano legati alle organizzazioni mafiose, perché lo schema era se puntiamo sullo sviluppo crescerà lo sviluppo, per ora mettiamo da parte la legalità, una volta che ci sarà lo sviluppo, una volta che ci sarà il lavoro, il cittadino si emanciperà e poi lo potremo avere alleato nella lotta alla mafia, un errore esiziale, drammatico, devastante, perché appunto lo sviluppo poi non ci fu mai e semmai si inquinavano le istituzioni e l'economia e non si saliva di gradino emancipativo nella scala della società, invece si riuscì, ecco la cosa importante su cui penso quelle tre esponenti politici e le culture migliori che si sono realizzate in questi mesi, in questi anni, punta tutto sul rapporto legalità e sviluppo, queste due dimensioni non hanno un primo e un dopo, prima la legalità e poi lo sviluppo, o viceversa, prima lo sviluppo e poi la legalità, nel dopo stragi facemmo questo errore e ci sono, perdemmo un sacco di amministrazioni locali, dopo il 93 avevamo in mano, avevamo vinto democraticamente tante realtà locali, abbiamo conosciuto una stagione con in testa Palermo la cosiddetta primavera, dopo piano piano c'è stata una sconfitta dietro l'altra, al di là della bravura, del sistema delle collusioni che si sono realizzate in chi ci ha battuto, dobbiamo dire che ci fu anche un errore grave e al di là della capacità innovativa, al di là anche del sistema di collusione che in minima parte si è realizzato anche all'interno del fronte del centro-sinistra e ci fu questo errore culturale, progettuale di fondo, non riuscire a presentare una moderna antimafia in grado di coniugare queste due dimensioni, legalità e sviluppo. Oggi la sfida che sto lanciando al Partito Democratico siciliano è quella di costruire una classe dirigente che sappia coniugare legalità e sviluppo, dove in questa classe dirigente per essere ancora più esplicito non ci può essere spazio con gente come il senatore Crisafulli di Enna, che per me è una presenza che non è compatibile col carattere innovativo di legalità e sviluppo che il Partito Democratico deve avere in quella regione. Guardando un po' tutto lo schieramento politico italiano, quindi dal centro-destra al centro-sinistra si ha, a mio modo di vedere, un panorama abbastanza inquietante da questo punto di vista, perché da un lato abbiamo il Presidente del Consiglio che definisce Mangano, Mangano un eroe, abbiamo una figura come quella di Dell'Utri, abbiamo tutta un'altra serie di personaggi comunque che per voler stare sul vago stanno un po' in quella zona grigia, come la chiama Lucarelli, a metà tra la legalità e l'illegalità. Però poi io torno a provocarla sull'argomento. Poi abbiamo però dall'altra parte un Partito Democratico che comunque va a cercare quella che può essere un'alleanza, una collaborazione con l'Udc. Per cui la mia domanda è, ma se tutte le volte che succedono fatti gravi o meno gravi, comunque a livello di attacchi mafiosi, si chiede allo Stato, alla politica un segnale forte. Ecco, non sarebbe un segnale forte da parte del PD, da parte di quel PD che lei auspicava, se fosse abbastanza coraggioso da lasciare perdere magari un'alleanza con l'Udc, come mi pare che anche la base del PD chieda, per magari correre il rischio di perdere le elezioni, però come poi è successo nel 2008, quindi non è che cambierebbe tanto, però per poi avere uno slancio, una forza per rinnovare la sua classe dirigente. Lei crede, spera che questo possa avvenire e da parte di chi? C'è una nuova forza dirigente in questo partito che si professa nuovo, moderno, attento alla legalità, che è in grado di portare avanti questa linea? Allora, qui ci sono diversi aspetti che sono molto importanti, la ringrazio perché mi consentirà di fare un ragionamento puntuale su questo tema delle alleanze e che chiamo anche di innovazione della politica. Allora, il PD nasce e ancora è percepito così dalla società italiana perché non è un nuovo partito, uno dei tanti sperimenti che segnano e che attraversano la crisi della Prima Repubblica e che si rabbattono nell'altrettanta difficoltà e nella transizione della cosiddetta Seconda Repubblica. Un partito tra i partiti, l'ennesimo partito, mamma mia, l'ennesimo tentativo. Non è così, se fosse così non avrebbe una stagione lunga davanti a sé, se fosse così non sarebbe in grado di scuotere la società italiana, di riformare la politica e di cambiare il volto dell'economia e delle istituzioni del nostro Paese. Per me è importante che il PD sia un partito nuovo, non è un gioco di parole. C'è un partito che riforma la politica, riforma la società. C'è un partito che nasce nella sua identità più viva, più feconda, non solo per mettere insieme i vecchi riformismi. Secondo lo schema non c'è più il muro di Berlino dell'89, riprendiamo le vecchie tradizioni e mettiamole insieme. A mio avviso sarebbe un approccio limitativo. È vero che le grandi famiglie riformiste italiane hanno tutte delle culture, hanno tutte delle personalità, hanno una memoria, hanno degli insegnamenti importanti che bisogna raccogliere. Ma la novità non sta in questa dimensione. Pighiamo il vecchio PC, la vecchia DC, le vecchie culture socialista, repubblicane, li mettiamo insieme. Non basta. Io penso che dobbiamo costruire anche un'innovazione nella cultura riformista. Sta qui il carattere innovativo e il carattere innovativo sta in un buco che c'è nella politica italiana. Il buco grande della politica italiana è la mancata riforma della politica. Abbiamo tanti tentativi, c'è una domanda nella società, ma mai si è organizzata una risposta progettuale, cioè sistemica, cioè capace di mettere insieme diversi aspetti, tra cui adesso dirò, per riformare la politica. Abbiamo molta attenzione quando pensiamo alla società italiana e alla crisi dell'economia. Vero, c'è una grave crisi, pensate adesso. Ma questo non assolve e non si sostituisce alla riforma della politica. non è che ottenendo anche delle ottime performance sulla riforma dell'economia di per sé questo si traduce in riforma della politica. Abbiamo avuto una stagione positiva nel governo del centrosinistra dove si sono ottenute delle performance elevatissime sul piano economico che non abbiamo saputo valorizzare. Mi riferisco a un tratto importante dell'esperienza di governo del 1996-2001 dove il nostro Paese cresceva oltre il 2%, dove il nostro Paese, ricordate, e allora riuscì nella performance stupendo il mondo intero di raggiungere il traguardo dell'Europa dove il nostro Paese abbatte l'inflazione, cominciò a far calare quel mostro del debito pubblico, dove il nostro Paese finalmente investiva nelle politiche sociali, con delle performance ripeto che se uno si va a guardare adesso rimane allibito per la positività e per anche la nostra stupida incapacità a sapere valorizzare questi dati. Ma non si tradusse in riforma della politica, tant'è vero che poi il sistema delle alleanze e il sistema dello stare insieme dei partiti produsse dei difetti tali che quegli dati positivi furono messi in secondo piano, emersero i limiti della riforma della politica e non ottenemmo il consenso sperato e nel 2001 perdemmo le elezioni. Ecco, il tema della riforma della politica neanche si esaurisce nei temi dell'ambientalismo, pensate un po', gli ambientalisti nascono con un contenuto nuovo, dirompente, non sanno riformare la politica e vanno in frantumi e non riescono rispetto al panorama ambientalista europeo qui in Italia a organizzare una formazione politica forte in grado di avere le stesse performance progettuali ed elettorali che si sono raggiunte ad esempio in Germania o in Francia o in altri paesi, perché è stato sottovalutato il tema della riforma della politica. Pensate tanti tentativi che si sono messi in piedi, la rete di Ulucorlando crolla e frana sulla riforma della politica, il patto segni prima crolla e frana sulla riforma della politica, dicevo gli ambientalisti, la stessa trasformazione del PDS, NDS e poi in tutti gli altri passaggi, insomma non siamo riusciti mai in Italia a mettere a fuoco questo tratto della riforma della politica. Cosa è riforma della politica? Riforma della politica ad esempio smetterla in Italia di pensare che c'è una contraddizione nel riformismo tra valori e fatti. In Italia provinciali come siamo, per chi è attorno ai valori, quei valori necessariamente li deve tradurre in radicalismo, li deve tradurre in estremismo e chi è attento alla cultura di governo e ai fatti necessariamente lo deve trasformare in moderatismo ed in capacità di trasformazione della società e separiamo due dimensioni che in altri riformismi in Europa nel mondo non vengono separati. Per ultimo pensiamo Obama, è da stupidi pensare che un prammatico o un astratto ideologico estremista sa tenere insieme nella sua proposta politica, nella sua audacia della speranza, così il tratto identitario, il libro con cui lui si è presentato al mondo intero quando ancora tra virgolette non era nessuno, è quello che appunto tenta di coniugare la dimensione della pratica di governo di cui voi ad esempio in questo territorio, in questa regione siete bravissimi, con una grande però tensione ideale, con un esplicito riferimento a una tensione ideale, con un esplicito riferimento alla necessità di riformare, di cambiare quando anche è necessario radicalmente la società. In Italia queste due dimensioni non le abbiamo saputo tenere insieme e quindi c'è un deficit di riforma della politica anche nel nostro campo devastante, c'è un deficit di riforma della politica nelle selezioni della classe dirigente, nei modelli organizzativi, nella capacità di saper progettare e trasformare il territorio, nella formazione dei gruppi dirigenti, non si fa formazione, insomma tratti diversi che attengono al nocciolo duro della politica in sé, non nei contenuti della politica, l'economia, la politica estera, la politica sociale, no, non basta avere un buon contenuto che non è cosa da poco, nell'economia, nelle politiche sociali, nella politica estera, c'è anche una dimensione che riguarda la politica nel come si pensa, si organizza, si struttura nella società che è un tema che non abbiamo mai affrontato, non abbiamo affrontato neanche a sufficienza, con la giusta lucidità, anche oggi all'interno del Partito Democratico e questo tema erra, cammina nella società italiana e produce delle reazioni febbrili, ma che non sono una risposta, ma che sono la testimonianza che c'è un disagio, la rete negli anni 90, poi altri movimenti, adesso il grillismo, il rifiuto della politica, che stanno a denunciare un tema che la politica non sa affrontare, un tema che ancora nella politica deve trovare una risposta organica e progettuale, questo è il limite, se vogliamo, più profondo che dobbiamo ritrovare nella politica italiana, non sono d'accordo con le letture che un po' anche lei faceva adombrare, sono tutti uguali, da destra a sinistra, questa è una lettura superficiale, mi avviso, che non fa bene al nostro Paese, a mio avviso è più importante andare a capire perché ci sono questi limiti, da dove nascono questi limiti e come intervenire su tali limiti e penso il limite di fondo sta appunto nella mancata lucida attività attenzione sul tema della riforma della politica, fino a quando non affronteremo questo tema della riforma della politica è chiaro che in Italia non avremo una risposta come la sogniamo, come la vogliamo tutte le volte che ci si dà uno spazio di partecipazione, penso alle primarie, basta in Italia accendere un po' d'attenzione e immediatamente la risposta c'è perché appunto è ancora risolta la domanda di riforma della politica e va in giro senza ancora trovare pace, un luogo dove poter trovare finalmente piena cittadinanza e poter manifestare e sprigionare tutte le proprie potenzialità, immaginatevi se nel nostro Paese è compartito, ho il sistema politico tutto ma ci vuole un partito che dia l'esempio e mi auguro che questo sia il Partito Democratico, già con le primarie si è fatto un passo in avanti non da poco, però sempre all'italiana l'abbiamo giocato a metà, primarie ma con liste bloccate che è stata anche una sorta di contraddizione nell'utilizzo delle primarie, primarie si però adesso cominciamo un po' ad avere paura di questo meccanismo e quindi lo sviliamo e lo utilizziamo a piccole dosi, non perché è giusto farne un corretto uso per evitare l'inflazione del referendum che poi ne è passato hanno svilito anche questo strumento, ma perché abbiamo paura che apra troppo e che possa mettere in discussione la forza e l'energia dei classici potentati interni alla vita dei partiti e quindi ci sono dei germi, dei segnali, tutte le volte che apriamo uno spiraglio di riforma della politica la risposta c'è, manca nella testa della classe dirigente un'attenzione forte sul tema della riforma della politica e questo è il grande tema su cui in questi anni ho imparato anche sulla mia pelle, anche con le difficoltà che ho trovato, anche con i tentativi di isolamento che sono stati portati avanti nei confronti della mia persona, piuttosto che uscirne in modo impazzito sparando a zero contro tutto e contro tutto ho capito che bisogna curare il male nella sua profondità e il male nella sua profondità ho capito che è nell'assenza nella riforma della politica. C'è un altro tema, un'altra questione molto importante, nella storia italiana mai la lotta alla mafia è stata una priorità delle classi dirigenti, mai, mai. Nella storia italiana la lotta alla mafia nella politica ha, tranne eccezioni che sempre ci sono state lungo l'arco della lotta alla mafia, abbiamo un'assunzione di irresponsabilità sempre in quella dimensione che io chiamo nell'antimafia del giorno dopo e non nell'antimafia del giorno prima. Nel 1892 in Sicilia ci fu un movimento di cui la storia italiana non dà conto, neanche la storia siciliana, neanche gli autonomisti, quelli che adesso si riempiono la bocca di questa dimensione studiano, che fu quello dei fasci siciliani, fasci, non fascismo, fasci le fascine ed era un movimento socialista, molto originale, molto legato alla cultura, alla storia di quella terra ed era un movimento molto moderno, innovativo per il 1892. Pensate che alcuni studiosi del diritto del lavoro, in particolare dei contratti collettivi di lavoro, che voi sapete è uno strumento modernissimo per tutelare i diritti dei lavoratori, cioè superare il contratto, il rapporto personale col singolo lavoratore, inquadrare quel singolo lavoratore nella categoria più generale e far applicare dei diritti che sono universali per tutto il territorio nazionale, contratti collettivi di lavoro. Una grande modernità, una grande innovazione che si vorrebbe anche in questi mesi mettere in discussione. Sapete dove molti studiosi dicono che si sono avuti i primi germi antisignani del contratto collettivo di lavoro a Corleone, nel Corleonese, perché lì ci fu un'organizzazione dei fasci siciliani con un loro leader, Bernardino Verro, che poi diventò sindaco e poi fu ucciso dalla mafia, che nell'innovazione che introdussero nelle lotte che loro facevano per la terra, loro facevano una lotta per la libertà e la terra, perché la terra era in mano ai feudatari, agli agrari e quella terra negava diritti e lavoro, pane e lavoro. E loro nel reagire a una condizione di povertà estrema studiavano, per reagire a una condizione di povertà estrema innovavano. Allora questo strumento antisignano le cosiddette affittanze collettive, prendevano le terre incolte e le volevano affittare in modo collettivo, appunto, contratti collettivi di lavoro per evitare che il singolo potesse essere del tutto incapace, sia sul piano della tenuta del conflitto con gli agrari, sia sul piano anche poi della produzione concreta per innovare le produzioni agricole e quindi si inventarono questo strumento. Quindi in Sicilia c'era un'innovazione straordinaria, positiva, uccisero quasi tutti i migliori. Questo movimento fu sconfitto e poco si racconta nella storia d'Italia che l'emigrazione della fine dell'Ottocento, che convolse più di un milione e mezzo di siciliani che si andarono a disseminare negli Stati Uniti, in Europa, quella emigrazione fu la figlia di una sconfitta e fu il prodotto di quella sconfitta e tutti i migliori furono uccisi. Allora anche il Partito Socialista di allora esercitava la sua solidarietà il giorno dopo, uccidevano il loro dirigente e il giorno dopo manifestazioni, reazioni. Mai, anche in quel tempo, nelle forze più avanzate, ci fu l'intelligente capacità di capire che la lotta alla mafia non era una questione che riguardava una porzione del territorio lontano, una porzione arretrata di quel territorio. Poverini quei dirigenti che sono capitati lì, poverini quei dirigenti a cui il massimo possiamo offrire la nostra stupenda solidarietà, calorosa solidarietà il giorno dopo che li fanno fuori. Ecco, non ci fu anche allora la capacità di prendere la lotta alla mafia e farla diventare una priorità nazionale, perché è questione nazionale, perché è una questione che deve organizzare la vita di tutta la politica, in particolare delle forze progressiste. Anche questo limite c'è oggi. Ancora oggi siamo fermi all'antimafia del giorno dopo, che inizia in particolare nel secondo dopoguerra dopo l'uccisione di Piola Torre. Fate attenzione a questo dato di cronaca. Il 30 aprile del 1982 viene ucciso Piola Torre e Rosario Di Salvo, quello stupendo militante autista che stava accanto a lui. Il 3 settembre, sempre del 1982, viene ucciso il generale Calaberto della Chiesa, prefetto della Chiesa. 3 settembre sempre di quell'anno. Non so se voi sapete, avete visto mai il film Placido Rizzotto? Se voi prendete la cassetta, forse conoscete di più Centopassi di Peppino Impastato. In quell'anno uscì fuori un altro film molto bello come quello dei Centopassi, Placido Rizzotto. Placido Rizzotto era un sindacalista del Corleonese che fu ucciso nel 1947, pure lui come Bernardino Verro all'inizio del 900. E lì andò a sostituire questo Placido Rizzotto sindacalista Piola Torre. E poi lì andò come comandante della stazione, della compagnia, allora si chiamava della compagnia speciale dei carabinieri anti-banditismo, il giovane dalla Chiesa. Entrambi si conobbero e questa conoscenza intanto spezzò un meccanismo che nella sinistra c'era anti-forze dell'ordine. Piola Torre non aveva questo pregiudizio. E in dalla Chiesa non c'era quel pregiudizio anti-sinistra come c'era all'interno anche di molti esponenti reazionari dentro le forze dell'ordine. Entrambi nella lotta alla mafia si conobbero e nella lotta alla mafia impararono tante cose, nella lotta alla mafia innovarono tante cose e caddero lo stesso anno dopo tanti anni, dalla fine degli anni 40 che si conobbero, inizio degli anni 50 poi furono uccisi insieme nello stesso anno nel 1982. La legge voluta da entrambi, la famosa legge sul 416 bis e sull'aggressione ai patrimoni, fu approvata dal Parlamento il 13 settembre del 1982, il giorno dopo, per stare allo schema che vi ho proposto. E questa è la storia che ancora oggi spesso mi brucia e mi arrabbio moltissimo quando chiedo l'antimafia del giorno prima. Sull'antimafia del giorno dopo siamo diventati bravini, siamo migliorati e non è cosa da poco, cioè sulla capacità dello Stato di reagire ad un'iniziativa delle organizzazioni mafiose. L'ultimo esempio, quello più di cronaca, che vi viene forse più facile rispetto a questi dati storici che presento soprattutto ai ragazzi, pensiamo all'esempio di Saviano, Gomorra. Ebbene, da più di dieci anni denunciamo quelli che ci occupiamo di antimafia in modo serio, la escalation dei casalesi. C'è una relazione della Commissione Antimafia, quando ero Presidente, del 2000, che denuncia in modo sistematico questa presenza, in modo sistematico questa presenza. Si scopre la presenza dei casalesi in ritardo e grazie a questa grande intuizione letteraria che ha avuto questo giovane scrittore. E adesso, dopo che i casalesi... ma non è bastato Gomorra per organizzare la reazione dello Stato? Ci è voluto la strage che hanno fatto lì l'altro pochi settimane fa dei sei africani. Quindi ci è voluta questa strage per avere un po' di indignazione e cominciare a organizzare. Ma non è bastato lì. Erano stati uccisi anche due imprenditori, di cui uno aveva collaborato con la giustizia, cioè era non un collaboratore di giustizia, un ex mafioso, ma un testimone di giustizia, una persona onesta che aveva denunciato i casalesi ed è stato pure lui ucciso. Insomma, abbiamo imparato a reagire e si sta reagendo e vedrete se otterranno risultati. Il clan dei casalesi verrà colpito e mi auguro anche presto perché anche qui in Emilia Romagna ha una presenza, in particolare nella provincia di Modena, ma qualche addentellato comincia a averlo anche nella vostra provincia su cui bisogna puntare un'attenzione massima. Faccio questo esempio per farvi capire, anche nell'attualità ci muoviamo nell'antimafia ancora del giorno dopo. C'è stato un segnale interessante e questo è merito del PD e lo voglio dire di nessun altro, qui lo rivendico. Lo chiamo uno sprazzo di antimafia del giorno prima. Durante le elezioni adesso, le ultime, un leader, in questo caso Walter Veltroni, ha fatto una scelta che non ha precedenti nella storia democratica del nostro Paese. Mai. Pensate un po' a uno dire, ma banale? Non si era mai fatto. Mai fatto, neanche noi. Se vi dovessi raccontare tutte le volte che nel 94, nel 96 ho partecipato a tutte queste campagne elettorali, alle campagne elettorali della cosiddetta Seconda Repubblica, ai nostri leader di volta in volta candidati a fargli entrare nei cartelloni 6x3, nel programma, nelle decisioni, il tema della lotta alla mafia, neanche accannonate. Mai. E ora vi dirò perché, non perché erano colluse e mafiosi, adesso vi dirò qual era il meccanismo culturale che impediva loro di fare questo. Per la prima volta chi spezza questo meccanismo è Walter Veltroni, che in campagna elettorale, l'unico leader che ha detto i voti di mafia non li voglio. Voi dite, banale, dirompente, dirompente. Ricordatevi che il venerdì delle elezioni, giovedì, venerdì delle elezioni, Dell'Utri ha dichiarato che Vittorio Mangano, un boss di Cosa Nostra raccertato, con sentenza passata in giudicato, con una condanna all'ergastolo sulle spalle, famoso perché stalliere di arcore, lo ha definito un eroe. Un eroe. Lo ha definito un eroe. Voi immaginatevi dentro il popolo di Cosa Nostra e delle mafie in Italia, che messaggio è? Prima delle elezioni è un invito a nozze, o no? Benissimo. Dall'altro lato Veltroni ha detto guai a voi se ci votate. Non solo non ci dovete votare, ma dovete sapere adesso in campagna elettorale che noi agiremo per eliminarvi. C'è un messaggio molto forte. Tanto è vero che in un'intercettazione di andranghettisti, mentre si parla bene di Dell'Utri, e in questa intercettazione che è venuta fuori pubblica sui giornali alcune settimane fa, si indicava in Dell'Utri un punto di riferimento da contattare. Ci si lamentava di questa presa di posizione del leader Valtè Veltroni e quindi ha avuto un effetto dentro la vita delle organizzazioni mafiose. Una presa di posizione di questo tipo non era mai avvenuto. Uno sprazzo, uno spicchio, un primo segnale. Ma un'azione progettuale sistematica in grado di fare questi passaggi, prendere la lotta alla mafia e farla diventare una priorità del Paese, una priorità nazionale. 120 miliardi fatturato anno delle organizzazioni mafiose. Non stiamo parlando di cose marginali. 120 miliardi di fatturato si stima delle organizzazioni mafiose. Basterebbe solo questo dato per farla diventare una grande priorità, la prima priorità del Paese. Basterebbe il fatto che le organizzazioni mafiose controllano alcuni pezzi di territorio dello Stato italiano in cui non c'è la sovranità democratica, in cui il controllo del territorio non è dello Stato. Abbiamo scoperto adesso che, appunto ritornando ai Casalesi per farmi capire, ma in Calabria, ma in Sicilia, adesso scopriamo che a Milano, in alcuni quartieri di Milano c'è un controllo del territorio, non c'è solo la presenza di riciclaggio, di controllo degli appalti che avete anche qui in questa regione, ma c'è addirittura in quella città e in alcuni quartieri le prime forme del controllo del territorio. Abbiamo una presenza in settori amplissimi dell'economia nazionale ed europea, dovrebbe diventare una grande priorità. Dopo Duisburg ho chiesto questo. Non leggiamo i fatti di Duisburg in Germania dove si sono uccisi, c'è stata la strage dell'Andrangheta in termini tradizionali, una faida, una lotta tra di loro. No, leggiamola come un conflitto per gestire le grandi risorse, i grandi flussi del riciclaggio e quindi assumiamo da questa tragica esperienza una risposta che il nostro Paese dovrebbe dare che è quella di, io avevo suggerito allora, di immediatamente convocare un incontro europeo sulla presenza delle mafie, perché oggi le mafie a plurale e mafie non solo italiane sono presenti in tutti i Paesi e in tutti i Paesi rosicchiano, cominciano a mordere l'osso della economia libera e in qualche caso anche della democrazia. Niente, minimizzare, fare una lettura, avere paura di affrontare questo tema. Ecco perché bisogna nella politica italiana avere il coraggio di far salire di livello e farla diventare una grande priorità. Non sono uno stupido, so che nella lotta al terrorismo il nostro Paese è stato capace di questa performance. A un certo punto, voi sapete, i ragazzi forse non sanno, ma a un certo punto il nostro Paese di fronte alla minaccia del terrorismo si fermò, ha riflettuto sopra, ha capito che era una minaccia seria, si è unito, ha reagito e di fatto ha sconfitto il terrorismo. Più facile, perché il terrorismo viene percepito come una minaccia esterna. Le mafie per 200 anni hanno potuto radicarsi e covare dentro la società, dentro l'economia, dentro le istituzioni. Ecco perché ritorna il tema della riforma della politica. Perché se sono dentro la società, come sentire mafioso, come testa, se sono dentro l'economia con le proprie imprese, con i propri interessi, se sono dentro le istituzioni con i propri politici, per avere una moderna lotta alla mafia bisogna prendere questo tema, farlo diventare una priorità, chiamare a raccolta il Parlamento, la società, leggi, interventi, sistematicità, progettualità, non solo emergenzialismo, non solo antimafia del giorno dopo, ma soprattutto antimafia del giorno prima, ma per fare questo bisogna riformare la politica, perché stanno dentro. Senza la condizione della riforma della politica mai ci daremmo questo obiettivo e questa priorità e non saremmo capaci di organizzarla progettualmente. Ecco perché le due cose vanno insieme. Johnson, il Presidente degli Stati Uniti, negli anni Sessanta, democratico, firmò le leggi sul riconoscimento dei diritti civili per gli uomini di colore e capì che una volta che firmava queste leggi, perdevano la Florida. La Florida l'abbiamo, i democratici l'hanno rivinta, l'abbiamo rivinta adesso con Obama, da allora, si perdeva sempre. Questo a significare che nella politica ci sono momenti in cui, momenti solenni, in cui devi anche, non in modo superficiale, perché il perdere in politica, guardate, è una cosa grave. E quindi guai a chi al cuor leggero dice meglio perdere perché se si perde sei più bravi, no, se si perde sei asini. Ma ci sono alcuni momenti su temi così solenni e importanti in cui devi guardare al Paese con l'occhio che va lontano. In quel caso Johnson ebbe questa grande intuizione, ebbe questa grande forza morale e politica progettuale. I frutti sono stati raccolti dopo tanti anni adesso. Io penso che in alcune aree del mezzogiorno dobbiamo avere la stessa intuizione, con un vantaggio in più, che sono convinto che se noi dovessimo investire in classe dirigente, non è che perderemmo la Sicilia perché l'abbiamo già persa, butteremmo i semi, butteremmo le basi per vincere quelle regioni, per ottenere dei risultati in quelle regioni. Quindi a differenza di Johnson non perderemmo la Sicilia. A differenza di Johnson c'è una novità, che quando mettiamo insieme legalità e sviluppo, questo me ne vanto, l'ho dimostrato da dirigente, ad esempio nel sostenere la vicenda del sindaco di Gela Crocette e altri sindaci, che mentre in Sicilia perdevamo dappertutto, dove candidavamo dei sindaci con un progetto di legalità e di sviluppo innovativo e di riforma della politica, anche in quei momenti devastanti, dove si le prendevano legnate da orbi, si vinceva. E devo dire anche il sottoscritto, in esempio, io nel 94 sono stato quello, l'unico che ha vinto, abbiamo perso in tutti i collegi, Orlando ci ha fatto massacrare in tutti i collegi nel 94 di Palermo e il sottoscritto nel collegio Termini Corleonese ha vinto. Il sottoscritto ha rivinto nel 96, il sottoscritto nelle ultime elezioni capolista al Senato, abbiamo perso dappertutto, alla Camera, abbiamo perso elezioni provinciali e regionali, al Senato rispetto al 2006, dove avevamo vinto, dove eravamo andati anche in Sicilia molti in avanti, ha portato 51 mila voti in più, che non sono bruscolini in Sicilia, cioè ha portato il 5,8% in più al Partito Democratico. Questo per dire, al di là di me, quando si propone, non solo su di me, sul sindaco Crocetta, e voi potrei fare altri esempi di altri sindaci, vi dico quello Crocetta per ora è quello più famoso per farvi capire, quando si propone un progetto di legalità e sviluppo, si innova, si ha lo sguardo lungo alla Johnson, con come quel Presidente, senza pagare il prezzo che pagò Johnson, che ha per 40 anni perso la Florida, potremmo vincere anche adesso, potremmo vincere anche più velocemente. L'accordo con l'Udc, allora intanto vi do un'informazione che forse anche qui non è stata percepita, questa voglia di Udc si è manifestata dopo il risultato del Trentino, sapete che in Trentino abbiamo vinto le elezioni, segno che intorno al Partito Democratico non è vero che c'è solo crisi, non è vero che c'è solo delusione, ma c'è anche consenso, lo si manifesta e è stato un risultato quasi sperato, tutti si aspettavano che in Trentino si perdesse le elezioni, l'onda lunga della vittoria del centrodestra assegnava a tutti gli osservatori un facile pronostico di nostra sconfitta, si è vinto. Allora tutti pensano si è vinto perché si è alleato con l'Udc, l'Udc voi sapete che non aveva presentato liste in Trentino, o meglio aveva presentato una lista, ma poi non aveva le firme in regola ed è stata esclusa, forse questo dato non lo sapevate nessuno, tutti si è convinti che in Trentino si è presentata la lista dell'Udc, alleata con Dell'Ai, candidato a quella provincia, del centro-sinistra del Partito Democratico e si è vinto le elezioni. L'alleanza con l'Udc c'è stata, ma non era un'alleanza intorno a una lista, l'Udc ha presentato la lista, è stata esclusa, l'Udc nazionale con Casini ha detto di sostenere Dell'Ai, il più grosso leader del Trentino, adesso mi verrà il cognome, per dire alla siciliana il cuffaro del Trentino, lascia l'Udc, si è candidato col Pdl ed è stato il più votato nel Pdl, quindi segno che una fetta di quel consenso si è spostato col Pdl. Una piccola parte del consenso dell'Udc si è spostato col centro-sinistra, quindi non è stato l'elemento chiave della vittoria in Trentino, nel Paese tutti siamo convinti che l'elemento chiave della vittoria in Trentino è stata l'alleanza con l'Udc, non è stato così. Però quello che si è realizzato a mio avviso, questa spaccatura dell'Udc, è un fatto positivo, è quello che io propongo in Sicilia. Con l'Udc di Cuffaro mai poi mai possiamo fare un'alleanza, mai poi mai possiamo avere quei caratteri che dicevo prima, fare diventare oltre la mafia è una priorità, da ridere con Cuffaro, fare legalità e sviluppo, c'è da scompisciarsi le risate e pensare che con Cuffaro possiamo fare legalità e sviluppo, no? Pensate Cuffaro che si possa fare legalità e sviluppo, non esiste. Ma c'è una parte dell'Udc interessante, anche in Sicilia è innovativa, anche con dei suoi leader molto consistenti. Allora qui c'è un criterio che dobbiamo darci, un nodo che all'interno del Partito Democratico va sciolto e che ancora non viene sciolto, anche questo latente, che mi piacerebbe che i nostri leader nazionali avessero il coraggio di dire pubblicamente, manifestarlo e farlo sciogliere con un congresso dove la base possa decidere la linea. Qual è? C'è chi sostiene. Abbiamo perso le elezioni, dobbiamo ritornare all'interno del Partito Democratico a coltivare l'idea coalizionale, quell'idea che fa abbassare la visibilità, la leadership del Partito Democratico e punta invece ad aggregare tutto il fronte anti. Io mi avviso, allora in questo schema bisogna subito aggregare anche l'Udc e magari poi c'è chi estremizza questo schema e sostiene che la leadership va data non a un esponente del PD, ma va data a Casini. Questa è una proposta di soluzione per ritornare a vincere alla sconfitta di qualche mese fa. Ritengo questo approccio sbagliatissimo, perché non possiamo ripresentare al nostro Paese quella cozzaglia di alleanza che ti fa vincere, semmai ti fa vincere, in modo risicato, in quei termini che abbiamo già conosciuto, nel 1996 e adesso nel 2006 e poi fatti perdere il giorno dopo che inizi a governare. Vinci in modo risicato, se vinci e perdi il giorno dopo quando devi governare, perché non c'è condivisione, progettualità, le sofferenze. Vi faccio un esempio sulla lotta alla mafia. Amato le decisioni, alcuni pezzi di decisioni che adesso in Parlamento abbiamo fatto passare con questa maggioranza, alcune cose sui beni confiscati, alcune cose su 416 bis, sono miei vendamenti. Amato li aveva tutti in quel disegno di legge che Amato aveva preso dalla Commissione Antimafia, dove noi eravamo in maggioranza, l'ultima Commissione Antimafia, però presentò il disegno di legge perché non poteva presentare il decreto perché c'erano delle divergenze. Capito? Cioè quel sistema coalizionale, quel sistema frammentato, ti impediva di decidere e la decisione si trasformava. Vabbè, intanto presentiamolo, poi si vedrà se riusciamo a trovare la mediazione in Parlamento o strada facendo. Non possiamo ritornare a questo clima. Sarebbe un errore clamoroso. Perderemmo ancora una volta quella mission che abbiamo, quella missione che dobbiamo avere nel nostro Paese. Innovare la politica. Finalmente organizzare un riformismo che si proponga come proposta maggioritaria, come negli Stati Uniti, come in Inghilterra, come in Francia, come in Germania e non come riformismo minoritario che sta lì, che delega, anche se al 20% no, però non mi devo manifestare, devo avere un altro leader, magari del 4% perché non devo manifestarmi al mio Paese con la mia responsabilità perché mi devo truccare, mimetizzare nel moderatismo. Sbagliato per questo. Sbagliato ancora di più perché quando un partito di maggioranza relativa in democrazia non esprime la leadership e non si assume la responsabilità di guidare quella leadership, i disastri sono annunciati. È anomalia un sistema in cui la leadership è del partito piccolo della coalizione. Non funziona, distorce, non ti fa assumere responsabilità, non ti fa incidere, non hai quella ricaduta capillare nel Paese in grado di preparare e poi accompagnare le riforme che devi fare. Sbagliato sotto tutti i punti di vista. Quindi questa soluzione è una soluzione sbagliata. C'è chi invece sostiene cresciamo intanto, curiamo il Partito Democratico, facciamolo radicare sul territorio, diamogli quel respiro ideale, progettuale, adeguato alle sfide della società italiana. Prima delle elezioni ci si pone legittimamente il tema delle alleanze, costruendole in modo omogeneo sul piano progettuale, ideale, per evitare che il giorno dopo che vinci le elezioni sei a perdere di fatto il Paese perché non sei in grado di governarlo. In questo schema se è una parte dell'Udc, se l'Udc accettando quel progetto innovativo di cambiamento della società italiana può anche far parte di una coalizione, perché no? In Sicilia questo deve necessariamente passare attraverso una spaccatura dell'Udc perché con Cuffaro almeno fino a quando avrò un ruolo in questo partito democratico vi assicuro che mi metterò di traverso. impedirò con tutte le mie energie e tutte le mie forze che possa consumarsi una scelta di questo tipo. Ecco, come vedete a monte c'è il tema della lotta alla mafia come se non è una priorità la lotta alla mafia nazionale pagate un prezzo lì in Sicilia alleatevi con Cuffaro ma non si paga un prezzo solo in Sicilia di contraddizione di negatività di arretratezza di anche lasciatemi dire di l'urduria morale si paga un prezzo anche qui perché le mafie sono anche qui e si paga un prezzo a Milano a Bologna a Reggio Emilia a Modena a Padova a Torino si paga un prezzo sull'intero paese perché la sfida della lotta alla mafia è una sfida centrale per il paese e perché la risposta in positivo di coniugare legalità e sviluppo è una sfida che riguarda tutto il paese non ho tempo per ad esempio sfiegarvi il rapporto legalità e sviluppo a partire dalla crisi finanziaria con le banche anche lì c'entra il rapporto legalità e sviluppo anche da semplice consumatore quando vai a comprare nei supermercati c'è una dimensione di legalità e sviluppo le imprese lo hanno capito l'associazione industriale siciliana fino a qualche mese fa sosteneva la lotta e la mafia e che c'entriamo noi è un affare di stato e voi colludete con la mafia e che possiamo fare Lunardi ricordate il ministro dei lavori pubblici se volete fare affari o se vogliamo meglio lui l'abbelliva fare opere pubbliche bisogna convivere con la mafia quelli hanno capito e sapete con chi hanno fatto questo tratto di cammino l'abbiamo fatto insieme cioè l'impresa dialogava col sottoscritto insieme abbiamo maturato queste sfide hanno capito che senza legalità non c'è affare che tenga senza legalità non c'è libertà di mercato che tenga senza legalità non c'è profitto che tenga lo hanno capito e addirittura hanno preso una decisione senza precedenti chi paga il pizzo chi paga il pizzo viene escluso dall'associazione degli industriali pensate un po' uno può dire ma come io pago il pizzo sono costretto poteva esserci lì una giustificazione sbagliata sbagliatissima però si poteva coprire dietro una sorta di giustificazione in grado di sostenere ad esempio Di Pietro su questo non sono d'accordo difende chi paga il pizzo lui dice no chi paga il pizzo non va criminalizzato su questo non sono d'accordo per niente con Di Pietro assolutamente non d'accordo non comprende la portata rivoluzionaria innovativa di questa scelta della confindustria e decidono di fare questo pensate un po' se i politici la politica dovesse assumere una decisione simile e dire chi ha un sistema di relazione seguitemi consapevole e responsabile consapevole e manifesto con dei boss mafiosi non aspetto il giudizio penale per buttarlo fuori non aspetto il primo grado secondo grado terzo grado perché sul piano penale è giusto che sia così sul piano penale se un politico incontro un mafioso devi dimostrare e qui la politica dovrebbe avere gli attributi per non farsi massacrare per non cedere all'antipolitica anche per il politico valgono le garanzie e quindi sul piano penale devi dimostrare che c'è un fatto che c'è un reato che c'è un processo e sono condannato ma sul piano morale e sul piano politico io ti butto fuori perché se tu hai una relazione consapevole con un boss mafioso non aspetto il giudizio penale per toglimi la castagna dal fuoco non sei degno di stare nel mio partito non sei degno di andare in Parlamento perché il giudizio morale il giudizio politico per me è più importante di quello penale in una società moderna in una società avanzata conta di più e qui c'è il meccanismo autonomo della politica di affrontare finalmente sciogliere questo rapporto con la magistratura che ci trasciniamo perché è sbagliato sia condannare la magistratura che è il più grave errore e dobbiamo essere paladini della difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura ma è anche sbagliato andare al carro della magistratura non dobbiamo aspettare la magistratura perché dobbiamo io quando vado a trovare un sindaco e gli dico com'è la mafia qui nel tuo territorio sai l'ultima indagine della magistratura oi ferma tu la tua conoscenza se tu sei un bravo sindaco devi conoscere il male e il bene della tua comunità promuovere il bene e combattere il male se tu non hai le tue antenne la tua analisi i tuoi strumenti di conoscenza del tuo territorio non la puoi delegare alla magistratura alla magistratura gli devi delegare giustamente il giudizio penale la repressione il colpire il reato ma tu devi conoscere se i tuoi imprenditori sono collusi o non con la mafia devi avere le antenne devi sapere se all'interno del tuo partito o della tua giunta c'è una collusione mafiosa devi proporre anche tu un tuo strumento autonomo di lotta alla mafia invece in Italia ci dividiamo nei due partiti contro i magistrati pro magistrati e il giudizio penale il nostro compito dove sta e il giudizio politico dove sta e il nostro progetto politico dove sta e quindi ci sbattoliamo ci come diceva allora la famosa rabbattiamo dentro questo schema che è uno schema perdente preferisco chi difende l'autonomia e l'indipendenza e la magistratura mille volte però capisco che non è la soluzione alla crisi della società italiana la soluzione sta nel ruolo autonomo morale della politica che deve imparare a leggere il territorio deve imparare a scegliere e in questa lettura nella scelta nel progetto la lotta e la mafia è una priorità che riguarda tutti è una sfida che riguarda l'intero paese con zone diverse con pesi diversi a Reggio Emilia non siete a Cutro a Isola Caporrizzuto è vicino due realtà del crotonese da dove partono le imprese per fare il riciclaggio in questa provincia e dove venire a inserirsi nei subappalti di questa provincia non siete come lì fareste un errore clamoroso se qualcuno volesse dipingere Reggio Emilia come la provincia di Crotone ma nello stesso tempo è un errore pensare che questa vicenda riguarda solo la provincia di Crotone e non chiama in causa e non responsabilizza un'azione specifica e mirata anche in questa provincia contro l'Andrangheta ecco una sfida nazionale per farne una sfida nazionale deve diventare una grande priorità e deve avere una classe dirigente che nel paese sa coniugare nelle forme più moderne e più avanzate legalità e sviluppo e nel sistema delle alleanze il partito democratico non deve fare l'errore di riprendere il vecchio schema coalizionale oppure di tapparsi in naso e farsi un'alleanza critica contro con chi ci sta pur di battere questa attuale maggioranza ma di dotarsi di un progetto una leadership un'idea di società e una capacità di costruire alleanze sull'innovazione perché le alleanze ci vogliono ma devono essere giocate sull'innovazione e per quanto mi riguarda con Cuffaro non ci può essere innovazione ammetto come diceva il senatore in precedenza che chi fa il nostro mestiere anche in una città come quella di Reggio Emilia è a volte colto dalla tentazione di mettere un pochino tutti sullo stesso piano ma a mia parziale discolpa per questo pessimismo devo dire che molti politici ci danno una grossa mano in questo senso esattamente alimentare questo pessimismo questa visione che si ok al di là dei proclami al di là delle frasi fatte al di là della posizione sulla magistratura al di là della posizione pubblica pubblica nei confronti della legalità poi quando si va a vedere nel concreto alla fine le differenze che pur ci sono sono non sono così eclatanti a darmi una mano in particolare in questa mia tendenza al pessimismo da questo punto di vista è stato anche un senatore che in campagna elettorale il senatore Ligotti dell'Italia dei Valori che in campagna elettorale è venuto qui a Reggio lo scorso aprile quindi dell'Italia dei Valori non di Forza Italia del PDL ha una precisa domanda del moderatore lui ha detto no qui in Emilia voi state bene tutto sommato state bene nella mafia qui non c'è perché e poi ha dato una spiegazione dal mio punto di vista agghiacciante lui dice no non c'è infiltrazione mafiosa in Emilia Romagna perché gli imprenditori non capiscono il dialogo della mafia ovvero mi ha raccontato un pentito di aver telefonato a un imprenditore bolognese dicendo dovete assumere questa persona e questo bolognese non capiva dice no guardi parli dell'ufficio del personale però siamo a posto sa no guardi lei non ha capito lei deve assumere questa persona l'apprenditore no guardi lei che non ha capito non me ne occupo io senta l'ufficio del personale chiami il dottor Tizio Caio ora a me francamente se fossimo in un film di Franco e Ciccio potrei anche ridere di fronte a una cosa di questo tipo ma che sia questa frase detta da un senatore della Repubblica di un partito che almeno nominalmente attende